Bene ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di un argomento connesso alla programmazione neurolinguistica, all'advertising e alla psicologia chiamato Pattern Interrupt. In italiano si dice... Interrompimento della poppa. Non so per quale motivo Pattern Interrupt con Google Translate me lo traduce Interrompimento della poppa. Vabbè. Comunque, il Pattern Interrupt non è altro che l'interruzione di una sequenza che per il nostro cervello viene considerata naturale. Vi faccio un esempio. Se ad esempio stiamo scrollando il feed di Facebook e ci aspettiamo un certo tipo di contenuto, quindi foto, foto, video, notizia, immagine, il nostro cervello riconosce già in automatico una sequenza di eventi che è abituato già a contestualizzare. Quando avviene il Pattern Interrupt? Quando c'è qualcosa che interrompe questa sequenza in maniera improvvisa e costringe il cervello a ritornare indietro e prestare quindi attenzione. Quindi banalmente è qualsiasi cosa che catturi la nostra attenzione. Quando siamo in modalità tutto è normale. Quindi quando il nostro cervello è abituato a contestualizzare qualsiasi cosa, all'improvviso quando c'è qualcosa fuori posto il nostro cervello viene richiamato all'attenzione come per dire ehi, quello non dovrebbe essere lì e cerca di capire per quale motivo si trova lì e scopre di più. Quindi è interrompimento di una sequenza che il nostro cervello sta riconoscendo e non riconosce più. Quindi l'argomento del video di oggi è come possiamo utilizzare un Pattern Interrupt, quindi in advertising, nelle nostre campagne pubblicitarie ad esempio. Perché oggi più che mai, lo dico sempre, è difficile catturare l'attenzione e uno dei modi per catturare l'attenzione è appunto utilizzare il Pattern Interrupt, cioè porre davanti al nostro potenziale cliente o il nostro utente ideale, un messaggio o un video o un'immagine che catture improvvisamente la sua attenzione. Quindi lo faccio uscire dalla modalità lobotomia, scrolling del feed di Instagram e di Facebook e catture la sua attenzione. Questo come si può fare? Ovviamente bisogna stare attenti a che tipo di comunicazione e che tipo di messaggio vogliamo trasmettere, ma se ci pensate in qualsiasi tipo di advertising, di campagna, di video c'è un modo per scaturire questo Pattern Interrupt e quindi catturare l'attenzione. Come lo si può fare? Lo si può fare sia, ripeto, con un'immagine che con un video e si tratta semplicemente di mettere qualcosa all'interno del nostro contenuto pubblicizzato video e immagine che catture immediatamente l'attenzione, ma soprattutto sia decontestualizzato dal contesto che stiamo dando alla campagna pubblicitaria. Quindi, tornando all'esempio, se stiamo facendo una pubblicità di pennarelli, se facciamo un video regolare in cui semplicemente facciamo vedere un pennarello e il nostro cliente ideale sta scrollando il feed, non avrà nessuna azione e niente che lo farà uscire dalla sua modalità di sequenza visiva o di contestualizzazione di quella stessa campagna. Perché? Perché non c'è niente di strano. Quindi è una pubblicità abituata a vedere tante altre pubblicità e il suo cervello immediatamente identifica quello come un messaggio pubblicitario. Se però un pennarello, ad esempio, viene improvvisamente inserito in un contesto completamente fuori luogo o fatto qualcosa di particolare con quel pennarello che una persona non farebbe mai con quel pennarello, ad esempio scrivere è una cosa ovvia da fare col pennarello, ma se facciamo qualcosa all'interno di questo video con il pennarello che nessuno mai farebbe, adesso non pensate a cose strane, ma provate a usare il pennarello magari in un modo in cui nessuno userebbe mai il pennarello, questo è un pattern intero perché il cervello non riconosce quell'azione, non riconosce che venga fatta quel tipo di operazione con quel prodotto, si interrompe e quindi come se il computer dicesse aspetta un attimo questo non è giusto, non è fatto in questo modo, non dovrebbe essere qui, non dovrebbe essere usato in quel modo e quindi vai in modalità attenzione, cosa sta succedendo e quindi poi di conseguenza sei portato a cliccare e a vedere in più cosa succede, quindi se c'è qualcosa di decontestualizzato, un esempio, se prendiamo due pennarelli e li usiamo come bacchette cinesi per mangiare il sushi, un esempio, ovviamente questo sarà un pattern interrupt nella mente del nostro consumatore ideale che magari comprerebbe pennarelli perché? Perché non è abituato a vedere i pennarelli utilizzati come bacchette per mangiare il sushi ad esempio e se banalmente stiamo traggettizzando un pubblico che ama il sushi ed è interessato al sushi sarà ancora più attivo e interessato perché è interessato al sushi ma nella sua mente non esiste che usi il pennarello per mangiare il sushi. Ora voi mi direte ok ma se fai una pubblicità in cui fa vedere che un pennarello lo stai usando per mangiare il sushi non ha senso perché il pennarello non si usa per mangiare il sushi quindi l'obiettivo stesso della campagna non stai facendo vedere il valore aggiunto del prodotto no ma semplicemente stai catturando l'attenzione del tuo consumatore ideale per portarlo poi a una classica sequenza video che banalmente vedrebbero da qualsiasi altra parte il nostro obiettivo principale ripeto è quello di catturare l'attenzione non è quello di far vedere una funzionalità che non esiste. Questo è molto utilizzato nella programmazione neurolinguistica e ovviamente questo rientra anche nella sfera più ampia della psicologia e quella del consumatore in questo caso perché stiamo parlando di campagne pubblicitari e quindi ovviamente questo potrebbe aiutare a rendere più interessanti le vostre campagne. Per interessanti cosa vuol dire? Vuol dire che se noi riusciamo a creare questo pattern interrupt e quindi riusciamo a fermare il nostro utente davanti al video questo per facebook sarà un indice di interesse perché? Perché stava scrollando e si è fermato a vedere il video considerate che facebook considera anche questo il tempo di permanenza quando stiamo scrollando su un certo contenuto anche se non compiamo nessuna azione anche se non mettiamo like o commentiamo per facebook è un indice di interesse vuol dire che quindi quel contenuto è interessante e se stiamo facendo una campagna vuol dire che l'engagement rate stesso del video perché viene visto il video va avanti anche se non abbiamo fatto play e non l'abbiamo aperto e quindi aumenta di conseguenza il tasso di interesse e di interazione del video stesso poi ovviamente se mette like al video commenta il video lo condivide perché è una cosa assurda e quindi vuole condividerla con un amico questo renderà il video ancora più viralmente interessante e di conseguenza più rilevante per l'algoritmo di facebook e ripeto c'è modo e modo di farlo bisogna ovviamente essere creativi in parte la creatività stessa e la campagna vincente è data molto dalla creatività oggi dal modo in cui ci approcciamo al modo in cui creiamo delle campagne nuove e inedite interattive in questo caso per quello è un altro degli elementi molto importanti questi perché tanti pensano che se hai il prodotto giusto e la campagna giusta oggi sia tutto a posto e quindi va bene così e riesci a vendere in ogni caso in ogni modo no perché se riesci a rendere la campagna interattiva e aumentare il tempo di permanenza di conseguenza aumenta anche il click to rate perché magari sono interessati a scoprire di più su quel prodotto e per quale motivo viene mostrata quella funzionalità e quindi vanno sul sito poi a vedere di cosa si tratta e più cliccano più aumenta il click to rate più percentuale di persone oltre a visitare il sito poi possiamo ritraggettizzare e poi di conseguenza viene aumentato il costo per click perché facebook riconosce che quello è un contenuto interessante stiamo parlando di contenuti sponsorizzati quindi vale anche ovviamente per contenuti che vengono condivisi normalmente nel feed è normale ci sono un sacco di persone se ci fate caso di creators anche che come prima immagine del video vale anche in realtà più o meno per youtube no se ci fate caso le copertine di youtube più sono clickbait tra virgolette o hanno qualcosa che non c'entra niente in quel video più vengono utilizzate per aumentare il click to rate perché perché nella nostra mente quando stiamo guardando il feed di youtube se salta nell'occhio qualcosa che non è al suo posto e crea questo pattern interrupt di conseguenza siamo portati a cliccare di più allo stesso modo vale ripeto per il feed di instagram di facebook per chi possa ad esempio video le copertine o i reels ad esempio no quando scegliamo che tipo di copertina del nostro video vogliamo del contenuto di IGTV ad esempio molti mettono un'immagine che non c'entra niente con il contenuto fateci caso vi sarà capitato vedete per un secondo questo frame che non c'entra niente e poi vedete un contenuto completamente diverso questo è un pattern interrupt cioè chi crea i contenuti o chi fa campagne pubblicitarie sa che questo meccanismo è potente perché permette ripeto di uscire dalla modalità flat che è il nostro cervello in cefalogramma piatto quando guardiamo il feed dei social e ci permette di uscire da questa misura diciamo da questa dimensione e svegliare il cervello è come se fosse uno schiocco di dita in cui dice aspetta un attimo quello non è dove dovrebbe essere o come dovrebbe essere quindi non ho scritto niente oggi ma semplicemente mi interessava fare questo discorso del pattern interrupt e quindi come utilizzarlo e vi ho dato anche qualche consiglio sul come farlo e se stiamo parlando di campagne pubblicitarie di advertising di crescita del vostro prodotto del vostro brand del vostro e-commerce non sto parlando solo di dropshipping ma advertising vi ricordo che qui sotto trovate il link e-commerce euro che venerdì verrà chiuso chiuso vuol dire che non è che chiudo completamente il corso ma verrà reintegrato così come ho fatto anche altre volte all'interno del mastermind dove all'interno del mastermind ci sono anche altri corsi viene reinserito là dentro così come era all'inizio all'inizio faceva parte appunto del mastermind poi è stato tolto e venduto separatamente adesso ritornerà dentro fino a venerdì quindi se volete entrare a far parte di questo mondo e-commerce non soltanto advertising ma tutto il processo per iniziare a vendere online trovate il link qui sotto e ci vediamo all'interno del corso al solito come dicevo sono rientrato a los angeles quindi la maggior parte dei contenuti che farò dentro il canale sarà di questo tipo formativi informativi mentre invece su instagram potete seguirmi per qualsiasi altra cosa sia che riguarda l.a. gli stati uniti dove faccio un misto di contenuti anche nelle mie storie e parlo appunto di diversi argomenti come quello di oggi da oggi è tutto dal vostro webmate ci vediamo al prossimo video e un saluto da los angeles